Sogni la vita di campagna, ciao belli, bentornati su Eday, mi raccomando subito per il Grax, per l'ha fatto Grax, un like è gratis, non fate i directs, quelli stanno su Stambola, stanno su altri giochi, su Eday i directs ancora non s'allevano, iscrivetevi è gratis, campanella è gratis, codice Grax in the shop è gratis, se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione, passateci perché anche lì ragazzi vi faccio vedere dei trick come trasformare le fragoline in fragole reali, chi segue le storie di Instagram di Grax sa che cosa sto dicendo, so già partito regà, oggi finalmente sbloccheremo le anatre e quindi seguite il video, intanto vendo subito un po' drobetta, almeno faccio un bell'annuncio di quelli top e le ripianto i stunt, pubblicizza assolutamente sì, tac ci metto le fragole, sono riuscita a ritrovare i pomodori, incredibile ho trovato un annuncio sul giornalino, però ragazzi adesso sto carente di cotone Edo lo becco il cotone, vediamo se riesco a trovarla adesso nel giornalino, sarebbe meraviglioso, ovviamente non l'ho trovato, però mi prendo un po' di canne da zucchero, un po' di soie perché tanto dovrò rifare tutto quanto, il discorso mangimificio eccetera, anche un po' di carota Abbiamo fatto i campetti, in attimo che ci metto un po' di bacon, il latte non ce l'ho, c'è piazza doppia carotina, nappia subito il latte perché mi serve, non riuscirò credo a ristartare tutto quanto, il caseificio ci vuole tempo Il latte scarseggia molto spesso, quindi bisogna sempre fare degli accessi una volta ogni ora, ributtare il mangime, ad esempio qua ce n'ho tantissima addirittura doppia infornata Intanto ristartate, precise, il caseificio mi porta avanti, cavolo regà sto messo malissimo, c'ho pochissima roba, non voglio consumare tutto, ne rimango 5 Qua faccio un fischietto, mi prendo pure la roba dal clan, non lo so regà mi sei un attimo buggato il cervello, giretto di ruota e ci piace, ristartiamo tutti gli animali, ci facciamo una bella rotazione veloce Tra l'altro ancora non è riniziata, ricominciata la contrata, quindi non credo durerà tantissimo il video, siamo già a 60.000 monete ma non posso spendere, sto un po' inguagliato Lasciate perdere, fidatevi che è parecchio difficile riuscire a fare oro, bene, qui le pecorelle c'ho tutto, nice, se vediamo la lana, voglio ristartare tutto quanto E voglio anche vedere se qualcuno mi ha accettato, un 120, let's go, il 54 l'accetto, vi ricordo quello è il tag del gioco, accetto over 50 come refresh di lista degli amici Qua abbiamo, non ho una doppia infornata per i maiali, lol, perché poi mi manca uno di Mangime, ammazza che sfiga, però magari passo da Greg, vediamo se c'è qualcosa di tattico, così non lo devo rifare E il Gregino National, c'è Arcodone, tutta robetta che comunque ci fa comodo Attenzione, doppia infornata pure di Caprette, fatemi piantare Capre, ti è beccate Ermanjime, ho sempre sognato ragazzi, la vedete campagna e finalmente sono un contatino di livello 50, guardate che qualità Comunque già sto ripetando 60.000 monete, che non è male, però ho paura per quanto riguarda la macchinetta quella delle caramelle, no come si chiama regà, ve lo dico subito La macchina delle caramelle, un giorno e otto ore di posizionamento, ma secondo me costerà sui 130.000, lì è tosta la situazione, come faccio? A trovare tutto l'oro e soprattutto ad andare avanti perché mi avete già avvisato sul discorso anatre dicendomi che, occhio Grax, per potenziare le anatre e sbloccare tutti gli slot eccetera Ci vuole tanto oro, regà, l'oro ci serve in tutti i casi, siamo messi molto male, attenzione che voglio ristartare subito le pecore con 1x2, easy peasy, ci siamo E mi rifaccio pure un bel x3 de mucchetta, così sto a posto, anche per il giro successivo Let's go de apette, c'era da, vi posso fare, facciamo un x2 assolutamente sì per le candele Acciai speciali Grax, un bel x4 d'argento mi piace, ma mi sa che c'ho anche una picconata, me lo ricordavo a mazza ragazzi che memoria Grax E l'ultimo lo vado a startare con un po' di carbone, così tra 6-8 ore posso ristartare nuovamente le fonderie 4358 ore, tra poco saranno tutte maxate, maxate, stellate, tristellate e lì faremo grosse produzioni Prendiamo tutto, c'ho un sacco di formaggio de capra e penso che la zupperia la posso ristartare, ma non posso fare i fiori, il bouquet, perché non c'ho il cotone Il telaio è tosto da gestire, eh, come faccio? Vediamo se so fortunato, mi sento fortunato Un po' di grano lo prendo, prendo anche il nastro, le carote, eccetera Cotone, cotone, plisse, cotone, 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 lana e niente ragazzi, ci ho sperato Mi servirebbero pure i lamponi, mo che ci penso, per chiudere la barchetta e ovviamente quando li cerchi non ci stanno, magari qui con le fragole no Posso prendere questi però dai cespuglietti, let's go, un sacco di lamponi presi qua, posso prendere pure questi, vabbè però diciamo che è la prima raccolta da poco Me ne chiede sette, intanto ne chiudiamo due, forse, sì, giustamente tre Se riesco a sciopparli, chiudiamo la barca e c'è l'exp pure raddoppiata con l'evento, molto bellissimo Muffine che mi ero dimenticato, tre bigliettini golden Pazzesco ragazzi, che fortuna E si ristarta tutta la produzione No, Siri, tu non c'entri niente, Siri, sto giocando e dei Popcorn piccanti, andiamo col cioccolato piccanti Il burro ragazzi purtroppo non ce l'ho, quindi vado con miele e ne faccio altri piccanti E comincia ad essere tosta a gestire tutto Biscottino per noi, le pagnotte ce l'ho, posso fare anche, diciamo parecchio pane integrale Però pizzettina piccante, perché no, e les go, devane integrale 4-3, 4-3, c'ho praticamente tutto Vai col pasticcio de carne, che si vende sempre alla grande Te lo ricercano sempre, 5-4-5 Non ho il burro, sto messo malissimo Però ho il formaggio de capra e allora tortine de feta Potrei pure spingere forte, regà, eh E dagli costo per 5 de tortine de feta Grax non si tiene oggi, va la grande Ho solo 3 de cotone, quindi per 3 de gambali e me devo accontentare Succo de pomodoro ce l'ho, farei a questo point Un bel per 3 de zuppetta, perché no Con i succhetti, dagli de succo de pomodoro De cattiveria Ecco, per quanto riguarda il resto, sto veramente incasinatissimo Perché non c'ho la panna E quindi andiamo con un qualcosa che magari ci mette parecchio Vado con quello al cacao, mi porta avanti con i ghiaccioli Faccio un per 3 e il resto, ragazzi Facciamo un per 4 di ghiaccioli, ma sto stunnatissimo Con tutto il resto, quindi non è una cosa positiva Un bracciale de ferro, un'altra collana Fiori non li posso fare, però posso fare con lo zucchero E il caffè e il latte e i caffè Ho finito gli ovetti Hamburger per 2, assolutamente sì Qui ho tutto, quindi hamburger di pesce Dato che ho gli hamburger, sfruttiamoli Un tessuto di cotone, è inutile che ne ripianto 3 Spero di trovarli in giro La lana ce l'ho E allora, carica Crax Almeno stai bello pieno per parecchie ore Con lo zucchero non abbiamo problemi Precedenza a quello normale Più lo sciroppo, esattamente E abbiamo ristartato tutto Ho venduto le fragoline molto bene Ho prodotto un po' di mangime, ci piace Vorrei fare pure un po' di mangime per quanto riguarda Gli animali esotici Spero anche di trovare allo stesso tempo I lamponi Ma figurate se siamo fortunati Così fortunati da trovare i lamponi Questo me lo prendo Vai Crax Riempi del silo Così faccio una bella produzionecina da Nora Tac E tac Col grano Andiamo al volissimo sulla city Quest'oggi un po' di produzione c'è E ci piace Qui avevo richiesto l'aiuto Ma sono dimenticato di ristartarlo Ma soliti problemi dei Crax Prendo tutto quanto Mangime per il signor Grom Non mi ha dato niente Fermi perché mi sa che è bene a mangiare Eccolo Grom E se magna tutto Quindi devo rimetterlo Fischio Poi tra poco dormirà Con i puzzle 12 su 36 Voglio sbloccare ragazzi L'elefante Com'era la battuta Quella dell'elefante Che apre il frigo e dice Elefante Nel senso Elefante La bevanda Mazza ragazzi Crax fa ridere tantissimo Buono il bed Anche qua mi sa che Uh buono quell'atto ragazzi Anche qui avevo gente da ristartare Tutti i visitatori da gestire Mi dispiace dovevo cacciar via Mi dispiace ha finito Mi dispiace dovevo cacciar via Perché il centro benessere non lo metto Negozi alimentari per il cowboy Nonnetto Ciao bello Trattoria per mia Easy Per Ryan Trattoria Direttamente da Brawl Stars Ryan Cinema Trattoria Negozi alimentari Cinema per lui Molto bene Bed Che ci mette diverse ore Prima di tutto Se fullano sempre Quelli che ti chiedono più tempo Let's go The cinema Let's go The bed Un altro al bed Forse riesco Ad accontentare Praticamente tutti Ma poi mi sono sbagliato Eh L'ho appena detto Regà E non ho cacciato via uno Mi sono sbagliato Ho fatto delle espansioni Ho aperto sta parte sopra Sia sopra che quella sotto Lasciate perdere Perché poi voglio fare Tutto quanto di corsa De fretta Quindi clicco tutto rapidamente E faccio i danni Qua richiedo l'aiuto Zuppetta per lei Zuppetta Patata al sugo E zuppetta Se mettono tutti d'accordo Ma hanno finito tutte quante le zuppe Cioccolata calda Vai con Fish and chips Gelatino E qua abbiamo Marmellata di more Peperoncini E zucche Con il trenino Potrei andare a prendere Magari Anche qualcuno Da mandare al bed Quindi rientro Poi sicuramente arriverà Vediamo un attimo Il giornalino Ti prego il cotone Ti prego il cotone Ammazza regà Buone le mazzette Fermi Questa è stata top Che bancarella incredibile Prendo tutto Potrei prendere pure gli atti Prendo pure gli atti Ho shoppato tutto Perché poi Voglio andare a potenziare La pesca E forse la riesco pure a potenziare Perché mi mancavano Solamente tre mazzette Credo eh Lamponi non ci stanno Mamma mia Ma che è oggi? Fortunatissimo il grax Buono quel grano Ne prendo pure altro Prendo pure Le pannocchie Le canne da zucchero Altre pannocchie Che trovo esattamente qua Posso prendere pure gli ovetti Che Le ho finiti Tanto 180 Insomma Possiamo shoppare Il bello Il bello è che sto sempre Alle stesse monete Nonostante io stia comprando Un sacco di roba Voglio i lamponi Per chiudere la barca Siamo sulla sedi Adesso che c'ho gli ovetti Posso pure chiudere gli ordini Così diciamo che le ricompense Me le prendo io Aspetto l'arrivo Del nuovo visitatore Siamo quasi a livello 13 Boni perché sto quasi A tre quarti Di livello 50 Pur non facendo ordini Eccetera Grax Sulla fatto Grax Va spedito Sapete che questi Sono i miei giochi Doppio caffè Se l'è bevuto Bella per lui Ammazza Rega caffina Top Esperienza dal signor Grom Le asce mi servono Per le apette Altro baule Questa volta Bloccato E ritorno indietro Ed è quel momento Siamo sulla pesca Eschette per noi C'ho tutto pieno Non è un problema Prendiamoci al volo Queste due aragostine E due le rimettiamo Instant Non ce la faccio Rega a prendere Ok Alle terme Le terme Delle aragoste Ributto Una doppia schetta Che devo prendere E mi sa che non c'ho al posto Problemi grossi Ma andiamo Ad aprire Il pacchetto regalo Eccola qua Tocca a pettinare Praticamente 51.000 Rega non si può fa Il salone delle anatre Perché andremo a pettinare Le anatre Fighissimo Fatemi sapere Se vale la pena Spendere 50.000 Non lo faccio In questo video Perché voglio vedere Prima di tutto Il livello 52 Eccetera Con l'espansione 31-31-21 Mi sa che posso Andare ad aprire La zona che sta Esatto Lì nel mid 24 mazzette Non ce l'ho Apro questa Bam Grossa apertura Ci mancano Solamente Una Due Tre Quattro Cinque zone Credo che queste sotto Costicchiano Infatti ragazzi 32-30 Fatte quelle sotto Tutta quanta la pesca Sarà sbloccata E quindi Grossi video Con un sacco De pesca Dato che devo Consumare le schette Partiamo con quelle Verdi Magari Un attimo Ragazzi Effetto spirale Me l'avete detto Crax Fai l'effetto Spirale Perché è quello Che ti consente Di trovare I pesciolozzi Top Vai Ole Che pesce Ma persico Giallo Niente di incredibile Poi vado con Eschetta Normale Nella parte alta Perché le prime due zone Sono praticamente Quelle ragazzi Che abbiamo Sfruttato De più Abbiamo tolto Tutti i pesci Bisogna un attimo Fare una sorta Di ripopolazione Ripopolamento Sulla sinistra Eschetta Golden Bene Uh Cercietta interessante Però l'eschetta Golden Vorrei utilizzarla Pure nella zona Quella più bassa Occhio Che ci dai Pesce arcobaleno No No L'aspi Ok Forse Un taglio di pesce Un po' più Raro Che non abbiamo mai trovato Invece dell'eschetta Già la vado Con l'eschetta Blu Perché È tanto Scura la situazione C'è un bel fondale E neanche se vede il pesce Considerate Chissà che esce fuori Boni Questo è un pesce nuovo Che roba è L'epomis Già ce l'avevo Niente di che Ripulita la situazione Quindi sulla destra Ovviamente Facciamo di questo E il mega problema È che dovrò Aumentare il reedificio Ne ho 12 Intanto faccio Doppio di queste Eppure Trappoletta per le anadre 57 minuti Prossima gemmata Redificio Per forza Presa l'eschetta Blu E sulla destra Penso Eschetta verde E con la pesca Siamo a posto Un sacco De pesce preso Poi metterò Penso Le redi Che mi daranno Un bel po' De pesce Con tutte ste zone Uh fermi Ma io c'ho ancora Due Di zone da fare E allora Schetta verde Schetta verde E schetta normale Stavo dicendo Con tutte ste reti Una volta messe le reti Con tutte le zone Te porti a casa Un botto De pesce Assolutamente Sì Ma mi chiedevo Le reti Quelle Gemmate Che cambia Cioè che cose Ti danno Quelle con le gemme Rispetto A quelle normali Boh ragazzi Potete trovare Le gemme Con le reti Provate ad improvvisare Altro pesciolozzo Per noi Carpa ramata Ce ne abbiamo Infinite Ho sistemato Tutta la pesca Andiamo a vedere Il bellissimo Pesce Dex Se Dopo una battuta Del genere Met almeno Qualcuno Che lampeggia Eh sì Regà E dai Con ste gemme Tre gemmette Per noi I fuochi d'artificio Sicuramente Poteva andare Anche molto Molto meglio Rifacciamo Tutte le schette Particolari E appena avrò Il salvagente Con l'anatra Vedremo pure Il funzionamento Delle anatre pettinate Magari la metto In anticipo Sul prossimo video Così le prendiamo E poi le mettiamo là Perché non so neanche Quanto tempo Ci vuole Passando sul derby Mesca tutto Che sfiga Quasi quasi Ragazzi Me lo riattivo Nel chilling Così consegnando L'altra barca Andiamo Facile facile A due su Quattro cotone Fermate Ho rocolato Il cotone Importantissimo Mettine altro Te prego Non ho trovato solo Sedici Mi sa che l'ha finito Lamponi Boni rega Lamponi Presi tutti Ma ne prenderei pure altri Perché sette Poi li vado a perdere Sono riuscito a trovare il cotone Non ci voglio credere Evento Incredibile 58.000 monete Siamo messi comunque bene Lamponi Veramente all'infinito Questa la chiudiamo E finalmente Barchetta spedita Mi sa che ho fatto tutto Devo solo sistemare La bancarella Con le vendite Anche sulla city Dovrei aver raccontentato tutti Mi sembra di sì Se vola Vendiamo l'eccesso Non so perché ho comprato tutte Quante ste carote Però l'ho fatto E non riesco neanche a Devo vendere Crax Dei cliccare Mette in vendita Esatto Ci serve la soia Un po' di cotone Ce l'abbiamo C'ho poche patate Poco peperoncino Poco caffè Il delirio Ma voglio andare a vendere Quello che ho in eccesso Che ci va a fare grossi sordi Dobbiamo trovare pure le mazzette Per poi andare ad espandere Altre situazioni importanti Tortine per due Le vendiamo subito Vai Tortina di fragole Anche questi Generano tantissimi introidi Pancette e uova Assolutamente sì Che poi in realtà Devo vedere La prossima consegna Lo zucchero è difficile Le pizze Anche il peperoncino La prossima barca È molto molto complicata Hamburger de fish 450 E ci metto Al momento Un doppio bracciale Ragazzi Creo l'annuncio Vi voglio bene Video molto tattico Di Heyday Io ce l'ho messa Veramente tutta Però fidatevi Che non è facile gestire Con mancanza di latte Mancanza di pomodori Mancanza dei peperoncini E quando ti serve qualcosa Apri il giornalino Non ce sta E magari sul giornalino Ce sta quello che non te serve Poi trovi quello che te serve Ma riapri il giornalino E non trovi quello che Avete capito no? È tutto un disastro Io una giradina intanto Me la faccio Ci stanno sempre sti fiori Da quando sono arrivato A livello 50 Che ho sbloccato Il negozio dei fiori Ve giuro Solo fiori Like Iscrizione Campanella Per altri video Dei day Grossa giocata Abbiamo fatto la nostra rotazione Dal prossimo video Punteremo alle anadre Ma forse Arriveremo anche A livello 51 Dipende da voi Dai like Iscrizione Campanella Il codice Grax Un bacio Ciao belli Ciao ciao